Come evolverà il lavoro del futuro? Il lavoro del futuro evolverà in funzione della grande rivoluzione tecnologica digitale che sta caratterizzando i nostri anni e che sicuramente introdurrà tutta una serie di cambiamenti che porteranno verosimilmente molte delle attività che ad oggi vengono svolte da esseri umani e essere sempre più svolte da macchine, da computer, da algoritmi il che non significherà necessariamente avere meno posti di lavoro significherà avere una trasformazione di attività che ad oggi saranno sempre più attività ad alto valore aggiunto più intellettuali, l'uomo sarà sempre più chiamato a compensare fondamentalmente quella sensibilità quell'emotività, quell'intelligenza anche umana che le macchine sperabilmente non riusciranno mai a raggiungere Perché è importante investire sulle persone? Investire sulle persone è assolutamente fondamentale perché le persone saranno sempre quell'elemento creativo che riuscirà a determinare poi i cambiamenti, la tecnologia, i macchinari sono degli abilitatori di cambiamento ciò che guida è sempre e sempre rimarrà fondamentalmente il capitale emano, il valore umano con la sua capacità di improvvisazione, di intuizione e di analisi e di sintesi che non sarà mai raggiunta in nessuna macchina Cosa rappresenta per lei il forum delle risorse umane? Il forum delle risorse umane rappresenta un'ottima occasione per fermarsi un attimo dalle ansie e dalle preoccupazioni quotidiane, potersi confrontare con tanti adetti ai lavori e potersi portare a casa tanti buoni spunti per andare avanti nella propria professione Cosa consiglierebbe ai giovani che oggi si affacciano al mercato del lavoro? Ai giovani che stanno entrando nel mercato del lavoro consiglierei innanzitutto di interessarsi e conoscere bene la cultura digitale perché senza di questa non si va più da nessuna parte Consiglierei di studiare bene la matematica perché sarà sempre più un fattore determinante e poi consiglierei di essere un po' più audaci e di osare non farsi troppo condizionare da quelli che sono gli stereotipi che spesso noi stessi imponiamo Il futuro è delle risorse umane? Io credo che il futuro non sia delle risorse umane, credo che il futuro sia delle persone